Ciao, benvenuti su MyFootballGersey. Oggi vedremo insieme una maglia dell'NBA, quella dei Miami Eats, in edizione Icon Edition, in versione Swingman. La maglia Icon Edition celebra la ricca tradizione e l'identità iconica di franchigie leggendarie attraverso i colori esclusivi della squadra. Il capo infatti presenta le grafiche e i colori della squadra. Richiama in pratica la canotta che indossano i giocatori professionisti in campo. La canotta presenta scollo e giromaniche a costine, stampa del nome della squadra e numero 22 sul davanti, nome e numero del giocatore sulla parte posteriore. Il modello è realizzato in mesh a doppia maglia e grazie alla tecnologia Dry Kit la pelle resta fresca e asciutta. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate al 100%. Mamma mia! Bellissima! Questa maglia, finora di quelle che ho visto dall'NBA, è una delle più belle. Nella mia classifica prende 5 stelle. Fatta molto bene, con tutte le cuciture al posto giusto che non danno fastidio, le patch perfette. Devo dirvi il costo veramente vantaggioso, 26 dollari e trovate in descrizione tutti i riferimenti per poterla acquistare. Troverete un sito veramente pronto a soddisfarvi in ogni vostra richiesta. Ora prima di lasciarvi, se il video vi è piaciuto, prego di mettere un like e di iscrivervi al canale per avere altre recensioni in futuro. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media della versione Swingman. Grazie a tutti!